Ciao! Vedete come ho messo i nomi sulle bustine così non vi perdevo in questo marasma tutte le vostre cose E invece apro quello di Matilde Cosa c'è? Un macarons Vedete da Matilde l'ha scritto anche sopra Che carina Ed è pieno di sorpresine ragazzi Questa pallina Guarda che bella So già a chi darla Questa andrà a zira Oh! Due squisci E mentre Lara continua a scartocciare io ho trovato questa bustina qui Un attimo un attimo solo C'è una molla, un vestitino per fashion e delle altre sorpresine Che c'è Lara? Oh mamma mia ragazzi Che cosa c'è nel pacchetto di Viola? Guardiamoci il pacchetto di Viola Lara ha trovato qualcosa di lolettoso dentro il pacchettino di Viola Oh mamma mia qua ci sono due biberon Eccoli qua E che altro c'è? Oddio è crystal bunny L'ho già riconosciuto Mamma mia ragazzi Mannaggia 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 Io vi dico sempre non toglietevi lol per noi però grazie Bellissimo Grazie Qui c'è una glimis Che tra l'altro tu non hai questa? Sì E che altro c'è? Qui c'è un'altra scarpina lol Quindi c'è dell'altro Guarda Vestitini lol Wow Oddio c'è il vestitino di Super BB Guarda Poi c'è un'altro vestitino Questo lo conosco Oh 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 mio Dio Glitter queen Non ce l'abbiamo neanche lei Come hai fatto? Sono senza parole Io spero che siano stati doppi Guarda perché se non vi togliete cose che non avete doppi per noi Ve lo dico sempre Ma è stupenda Carino Che cos'è? Si apre? È un burro cacao Che carino Delle figurine delle lol Guarda che carina È stupendo il tuo pacchettino Pure troppo Mi chiamo Viola Ho 8 anni Ho 22 lol 20 lille Mi piacciono lì C'è l'olina E brrr Che carina Mi potete far salutare da loro? Non so Abbiamo l'olina da qualche parte Eccomi qui Grazie Viola Sono stupende Io chiamerei Viola anche lei Abbiamo già una lol che si chiama Viola Sì però La chiamiamo Viola Abyss Quanto è carina Grazie È stupenda Ti ringraziamo Viola Gritter Eh Brilla Viola Dai Brilla Viola Ti piace? Brilla Viola Grazie Grazie ancora Questa è di Olinia Guardate un po' Allora Siete le mie youtuber preferite Li adoro Posso salutarmi l'olina Certo Allora tantissime lol La sua preferita è Dora Una delle confetti pop E questo è il disegnino bellissimo Di Olimpia Poi qua che cosa c'è? Guardate Guardate Tante u E tanto scotch No Sì vabbè ma ormai Siamo diventate delle campionesse Anche a togliere lo scotch Però anche le graffette Quindi sono Siete diventate sempre Sempre più bravi Cos'è? Uno spinner gigante Con le lucette Ma che si Si illumina quando gira Guarda 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 girare Chi è? Chi è? Un Silvanian Feminist Dai piedoni Sì Sì Il topino Guarda che faccia buffa Che è con te carino E qua c'è un'altra cosina Che adesso cercherò Di aprire Aspetta Nora Lara È una lilla Chi è? Ma chi è? Così L'ha già riconosciuta Come fai dal sederino No che carina È stupenda È bellissima Credo che sia fake Ma è fatta divinamente Grazie È bellissima È bellissima Grazie Poi c'è questa bellissima pittura Che ci ha fatto Valentina Ed è l'ollena dipinta da lei Francesca Guardate un po' Guarda qui che c'è Questa è la tua letterina Con i tuoi disegnini Bellissimi Sei precisissima È molto molto carini Ti ringraziamo Perché è bellissimo Ma lei mi pare che avesse Anche un canale YouTube Sai Ho qualcosa su Instagram Non me lo ricordo Valentina Ci ha fatto Alice Ci ha fatto l'ollena E anche un punk boy Bellissimo Proprio carino Questo è il piacchettino Di Chiara E questo è il contenuto E vedete Dopo tanto terrorismo Che vi faccio E invece dello scotch Ci ha messo quello di carta Che si apre subito Yeah Cioè questa è una cosa Che ha fatto per le nostre storie L'aluno Zenetto L'ha fatto lei col fommi È bellissimo Guardate che spettacolo Sei stata Bravissima Super E Chiarina Grazie Questo è il tuo disegno Bellissimo E dice che Spera di rincontrarci Sì Nei prossimi eventi Ricordati Rocco Toys Il 20 ottobre E questo è il pacchettino Di Martina Questi sono i suoi regalini La letterina era nascosta Dentro Ma io l'ho trovata E c'è scritto Che è di Roma E che anche lei È una trottina Come Lara Lei è Ni 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 E queste due Siamo noi Babuti Piti Questo disegno Ce lo mandano Caterina E Giulia Che appunto Sono venute a trovarci A Aramix E che hanno anche loro Un canale youtube Che non è ancora pubblico Quindi in pratica Da quello che ho capito Loro fanno video Si divertono E se li tengono per loro Mi sembra una cosa Molto divertente Così se non avete Il permesso di pubblicarli Potete comunque giocare Tra di voi Insomma Mi passate il tempo E create cose divertenti Letterina di Flavia Regalini di Flavia Letterina di Flavia E che ha 11 anni Dice che ci guarda sempre La sua lol preferita È It Baby Glam Glitter Ludovica E questo è il suo pacchettino Con questi bellissimi regalini Questo credo che lo abbia fatto lei Lei ha 9 anni Dice che ci segue Da 2 anni e mezzo E ha detto Che nel primo momento Che ci ha visto Ha detto queste Sanno divertirsi E beh si è vero Ho 9 anni pure io E ci dice Che siamo le sue youtuber preferite Insieme Ahimè contro te E a GBR Che bello Sono contenta Perché sono canali Che adoriamo pure noi Mi ringrazio per tutto quello che fate E noi ringraziamo sempre voi Poi ho trovato queste due bustine Guardate un po' C'è scritto a mani nostre Guardate un po' Ci sono due braccialettini Di conteria Questo tipo di perline Si chiama conteria Fatti a mano Guardate quanto sono belli Grazie Non c'ho scritto il nome Ma chiunque li ha fatti Lo sa che vi sto ringraziando Qui c'è Aurora Che dice Ciao Barbara È Lalla Perché io la In effetti hai ragione Io Lara Ogni tanto la chiamo Lalla Allora invece qua C'è Sofia Guardate che carino Questo cupcake Che ci ha fatto un sacco di domande Ci chiede quando uscirà La bigger surprise In Italia Non ne ho idea Penso novembre Dicembre Non lo so Però per Natale Però per Natale sicuramente sì Invece Valentina Ci ha fatto questa bellissima Alice E qui c'è anche una tipitina E poi qui c'è Giulia Undici anni Che adora Masterlaw L'Alice Un braccialetto Un braccialetto Poi c'è un'altra Poi c'è anche questo Tutto questo canale Scusate se prenderò 50 pause Per leggere questa letterina Però è così Ragazzi La vita a volte Lascia dei buchi Dei momenti difficili Io sto conoscendo Tanti di voi Con storie come la tua Marianna E sto conoscendo bambini Che passano tanto Tanto tempo in ospedale Conosco un sacco di situazioni Veramente complicate Per cui Il solo pensiero Che magari Se guardate un video nostro Per dieci minuti Non pensate ai problemi E sorridete È tutto quello che serve È quello che deve portare Un canale come questo Quindi ragazzi Cercate di prendervi Dei piccoli Momenti Di gioia Guardando storie carine E passando il tempo così Tutto il resto della vita Non si aggiusta Certe cose Non si riescono a riparare Però magari Dieci minuti d'allegria Ve li riusciamo a dare Quindi in questo momento Il mio pensiero va a te Va alla piccola Ilaria Va alla piccola Alice Va a tante altre situazioni Che conosco E vale A chi insomma A voi Non riesco a parlare Perché queste cose Da mamma Mi destabilizzano In un modo totale Quindi insomma Pensiamo alle cose belle Ragazzi Io non vi dico mai Le cose Però In questo momento Io sto vivendo Da circa un mese Una cosa Non tanto bella Perché ho il mio papà Che non sta bene Praticamente Sta in ospedale Intervia intensiva E quindi Io non ve lo dico Però Voi In questi momenti In questo mese Il fatto di dover Per forza Di essere obbligata A essere felice In questi 10-20 minuti Al giorno Che faccio un video È come una medicina Per me Quindi grazie Di questa letterina Mariana Avrai una vita bellissima Avrai Tante opportunità Quindi devi soltanto Essere un po' più forte Degli altri Allora Continuiamo a vedere La tua letterina Perché è arrivato Il momento del festival Dello scotch Qui è pieno Pieno di scotch Poi si intravede Qualcosa è un po' rotta Ma la vediamo dopo Allora Ci sono dei numeri Adesso Scusate che ho la voce Un po' modificata Però io da mamma Queste cose Mi fanno Sono un po' sensibile Quindi Mi fate emozionare Numero uno Oh Un indizio Un indizio lol Che sarà Aspetta Allora c'è Allora È una lil Perché è piccino Macchina fotografica Photo finish Che è uno sportivo Che cos'è Non lo so Numero due Scarpi Oh mio dio No 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 Io queste scarpine No 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 Queste scarpine Io le conosco Sono blu scure E mi ricordano qualcosa Mi sta cento volte Negli unboxing Allora Questo ho già Ho strappato Ho capito chi è Lo scarpine Metteteci lo scarpine No 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 Ho capito Io spero che sia Un doppio Che sia fake Che non ti sia tolta Qualcosa di così importante Perché se è quello Che penso io Che sia un doppio Un triplo Perché non è possibile No E Allora Guarda ti taglio la mano Aspetta un attimo Allora numero 4 No No è lui No No Sì c'è C'è Ragazzi c'è il panchino Non ci credo Il lillino Cioè oltre che mi avete Praticamente fatto piangere Dei emozionare Eccetera Anche il panchino Non ero preparata Grazie Non so che dirvi Grazie Grazie di infinite Io ve lo dico sempre Non vi togliete giocattoli Per noi Vi portavate un foglietto Era vero Contenta lo stesso Se restate Meravigliose Se tornate In qualche altro evento Ditecelo Siamo Di quelle di panchino Ditecelo Mi raccomando Perché è importante Almeno E si Grazie 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 Veramente Questa lettere Ah E non ho detto tutto Scusate Mi sono persa Il rio Vedete questa fiumina È del loro Pappagallino Io spero Che gli sia accaduta Che l'abbia Tolta Però ecco C'è anche questa Bella fiumetta Grazie ragazzi Siete un'emozione Continua Ma sei contento Sì cara Ah mi dici Cara anche a me Sì cara Guarda È un fratellino Meraviglioso Sei contento E te l'ho già detto Sì cara Livia Lo riconosci il tuo pacchettino L'ho scritto Io scrivo Scrivevo i nomi Perché per non perdermi I vostri Le vostre cosine Allora Questo era il contenuto La letterina di Livia Guardate che meraviglia Allora c'è Il vestitino di Glee Una borsettina Delle Lilla Spice E Sugar E una cuffietta Che riconosco essere Quella di Beats Un sacco di ciondolini Un charm fits Per l'olina Delle figurine E la letterina Dice che Lei ha dieci anni C'ha già scritto Una lettera E ci ha mandato Un pacchettino Anche lo scorso L'omix E ha un canale youtube Che si chiama Asia channel E cercatelo E quello che ha l'icona Con l'unicorno E qui c'è anche Una palettina E siete pronti A capire Che c'è sotto C'è un pet Guardate un po' C'è Cirrara C'è Cirrara Però con una evoluzione Perché c'ha il vestitino Di Baby Dog Grazie Ma chi è che cammina Ah ho capito Chi è Guardate un po' Questo è un unicornino Che carino Della Thai Vedete c'ha il cornettino Non è salsicino È dritto È in piedi Di quelli charm Quelli che si attaccano così E ce l'ha mandato Maria Letizia Che è una bimba Che abbiamo visto Un sacco di volte Che è anche una Fortunella A scartare le bolle La bustina di Sofia Piena piena di pacchettini Guardate che carini Ci sono dei braccialetti Colorati per noi Una bella borsettina Due salsicce Queste se le vede Stella Nascondire Nascondire Se le vede Stella Sono già finite Grazie piccolina Oh questo è una busta Immensa Guardate un po' Dentro c'è di tutto Adesso la apriamo Oh si sta cascando di tutto Allora Oh il Forza 4 Piccolo Che carino Guarda Oh questi li ho sempre visti Che hai trovato? Che hai trovato? Stella Il poster di Stella Sarà contentissima Stella Per Lele Sarà felicissima Unicornini Che li ho visti Da qualche parte Guardate quanto sono Sicuri Ma quanto sono E mentre Lara toglie Tutte queste cosine Io vi leggo la letterina Perché ce la manda Sonia Dieci anni E ha una sorellina Che si chiama Viola Ci segue da quando Abbiamo aperto Lollina La sua la preferita E Alice Ma guarda un po' Perché la fa morire Dalle risate Anche lei ha un canale YouTube Allora Seguitela anche voi Si chiama Il magico mondo di Sonia Iscrivetevi anche voi E vuole il saluto di Lollina Lollina dove sei finita? Eccomi Ciao E l'ultimo favore Vuole far salutare Le sue amiche Le saluti tu Lollina Certo Giulia L'hai detto con la voce di Alice? Eh sì perché Giulia Se si legge bene Giulia Viola Martina Sara Un'altra Sara E diretta Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Su YouTube E vorremmo essere saluta E vorremmo essere saluta di Lollina Voglio tutti i tuoi saluti Quando me l'hai detto Ho fatto il disegno di Andrea E questo è il loro disegnino bellissimo Ci hanno fatto anche un po' di domande Ci hanno mandato anche di regalini Grazie ragazzi Grazie Grazie E da una letterina Piccolissima E' uscito qui Di questo disegno Bellissimo Ce l'ha fatto Viola Lei ha fatto me Che tengo in mano Flower Lei l'ha in versione Spider-Man E l'ha in versione Ladybug Con in mano Lollina Letterina di Elisa Che ci hanno dato qui C'è un regalino Ma è una spazzolina Allora Lei ci segue Da quando abbiamo aperto Lollina E a 11 anni Ha qualche domanda Per noi Oltre a dirci Che la sua lol preferita E Diva E vuole essere amica di Lara Ma assolutamente sì A parte i romics Farete degli eventi veri e propri Sì Il prossimo è già il 20 ottobre Ma poi ne faremo proprio degli altri Saranno sempre Di più Perché voglio stare con voi Allora Lara Come è stato abbracciato i miei contro te? Bellissimo Che poi non li ha abbracciati Era Loro hanno talmente tanti fan Che era Era tipo un pellegrinaggio Praticamente c'era una Mi ha toccato la spalla Una fila di bambini Poi c'era qualcuno Che prendeva i bambini Li tirava Facevano la foto E poi c'era un altro signore Che li lanciava via E ne faceva venire un altro Quindi era un po' veloce Come situazione Cic cic Esatto Quindi ecco Noi siamo riusciti A spupazzarvi Tutti Però noi abbiamo meno fan Rispetto a loro Intanto è uscita Un'altra pittura Di Valentina Con unicorn E vi faccio scorrere Anche questo Disegnone Che non ha il nome Ma è bellissimo Siete pronti Siete pronti alla letterina Più lunga del mondo Barbara Lara E Alice Con il fiore Con le figurine Con altre figurine Con da Giulia E Bianca Per Alice Per Alice Ancino carinissimo Insomma tutte queste cose Lollina È il tuo bottino Sei contenta? Sì Oh e qui c'è una mortadella Da Benedetta Che ha un'amichetta nostra Cioè nel senso Che già la conosciamo Infatti Ci ha messo sopra Gli adesivi Che le abbiamo regalato L'anno scorso A Romics Mi seguo da quando avete aperto Il canale Sì La mia prima donna È stata proprio Lollina Vedi forse ecco È per quello Che c'è tanta simpatia Tra noi Ogni volta che sono triste Guardo un vostro video Mi mandate una ventola Di felicità E vi fate tornare Il sorriso Grazie Guardate che bello Questo pacchettino Sembra un pacchettino Dei popcorn E la bimba Che ci li aveva portati Si chiama Alicia Questi siamo noi Fatti da loro Con la pelle Sono dei ritagli Di pellame Incollati Guardate che dolcezza E volendoci possiamo Mettere un gancetto E farla diventare Un portachiavi Oppure una collana Ti piacciono loro? Sì Ciao Grazie Pacchettino Che ci ha mandato Sofia Che carino Vi voglio un mondo più bene Siete le mie youtube Bebe Frida I vostri video sono stupendi Vi adoro Grazie 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 Sofia Altro disegnino Mia sorella Vi adora Poi c'è Guardate un po' Vi seguo da quando Ho aperto Lollina E qui c'è Glitter Queen E questi ce li ha disegnati Ilaria Letterina di Martina Ragazzi Che bella questa cosa Di mettere nelle pagine Trasparenti Perché sono comodissime Da vedere Le letterine Così si aprono in fretta Non si rovinano Brava Martina A 8 anni Vi seguo da quando Giravate i video Del play doh Mi voglio bene Da Martina Guardate che bello Questo disegno Apri Apri Barbara Ho già capito Questa è l'arina Che dice così E qua c'è un pacchettino Oh mio dio Sai cosa c'è? Cosa? Siete curiosa? Sì Siete pronti? Non ci credo Ragazzi Voi fate troppo Per noi Voi fate troppo Per noi No Il criceto Di Paolo Allora Adesso Ciao cara Ciao cara Adesso cerchiamo Tutti di far capire A Lara Una volta per tutte Hashtag Non è di punk boy Tu sei fissata Ma questo È di cheeky babe No Questo è di punk boy È da wave 2 Niente Non ce la facciamo Come si chiama? Com'è il nome di questo Ah no Ce l'abbiamo fatta Che l'abbiamo fatta Hashtag Ce l'abbiamo fatta È di cheeky babe Tu sei fissata Che è di panchina Ma non è la cresta Ha le punte Ah È perché mi confondo Perché sono tutti uguali Però è molto pancoso E poi c'è anche Questo altro Carino Grazie Grazie infinite C'è pure la crema solare Evviva Ho compito Tutto la mia famiglia Sì possiamo dire Che è di Dai facciamo che Per noi È di Paolo Invece Nel resto del mondo È di cheeky babe Ragazzi fate troppo Per noi Non vi ringrazierò Per sempre Creative bag Matilde Guardate che c'è Un cappellino Poi ci sta Una borsina Poi Sei un genio Ma è perfetta È un gual È la cosa più carina Dell'universo Poi L'ha fatto una perlina C'è del cibo Non è che l'ha scritto cibo Ha scritto cibo Allora poi c'è Oh questo è il primo No ragazzi Questo disegno Aspetta lo devo mettere a fuoco Perché è la fine del mondo C'è Alice Che fa Pop E guardate Chi c'è Il topo ragno Che beve Dal vader Di Matilde O Tilde O Mati O Megatilde Magatilde Magatilde E vi seguo ormai Da più di un anno Finalmente sono potuta Vedere a Romics Il 6 ottobre Due lol che sono Coconut Glam Glitter E PHDBB E anche un canale Di Youtube Che si chiama Magatilde Iscrivetevi a Magatilde Perché lei fa queste cose Fa tutorial E miniature Per le lol E per le Barbie Quindi bellissimo Potreste trovare Un sacco di spunti Per delle cose molto carine Pacchetto Anzi Lettrina di Luciana 6 anni e mezzo Con sorella di 10 Al seguito Adora i nostri video Perché si diverte tantissimo Penna glitter Per disegnarci tutte Queste cose Una lolina bellissima E qualcosa Oh che bello Da colorare Guarda un po' C'è zuccherina Che bello Sì Bellissimo Grazie Anche tu l'hai messa Nell'intercalare Bellissima scelta Perché la tua lettrina Non si è rovinata per niente Pronti alla garellata Di disegni di Maria Questo è il nostro logo Questa è Unicorn Bellissima Questa è una Noi che registriamo Sono l'unica Che non ha capito E Lara che dice Ho già capito io Perché sono l'unica Che non ha capito Ho già capito anch'io Ah c'è anche lei C'è anche Maria E io sono l'unica Polla Che sono vecchia Non capisco La lettrina Anzi non è Maria È Maria Letizia E a 8 anni Estradora il vostro canale Perché non dite parolacce Le sue lol preferite Eccole tutte qui E anche lei Sta per fare La nuova cameretta Ma noi non abbiamo fatto La nuova cameretta Abbiamo fatto la nuova Mezza cameretta L'abbiamo comprata Solo metà Allora Giulia Un bel pacchettino Regaloso Ho fatto tutto Sì Poi ci sono Fatte da me Adesso apro tutto E vi faccio vedere Ma guarda che carino Lara Barbara Il nostro logo Alice E un anellino Bellissimo In cui c'è Violetta Grazie Bellissima È un amore Questa letterina Questo L'ho infilato Tutto in una busta Del mio negozio E ci ho anche scritto Io il nome Ed è di Nicole Voilà Allora ci sono Dei pokemon Li avevo già visti Per l'elino Guardate un po' C'è un Pikachu C'è una Rainbow Dash Ed ecco la letterina E ce la manda Alice Dice che fa la quinta elementare E che ha una sorellina E ci seguono La sorellina si chiama Greta E ci segue Vede tutti i giorni I nostri video E ci ha messo tutto L'elenco delle sue LOL Sentite la pallina che suona Perché c'è Zira Che sta lincorrendola E guardate che c'era dentro Anche un blocchettino Carino Pack surprise Per Romics Da parte di Aurora Mamma mia Quante pack E quante surprise Ho sfrutturato tutto E ho trovato La letterina Che è fatta da Aurora Che a 9 anni Ci segui Da quando abbiamo Aperto Road Mofia A Romics È venuta anche La sua amica Maria Stella Che salutiamo Ma non so Se ci ha lasciato Una letterina Ma tu ce ne hai Lasciate mille Guardate un po' Vi faccio scorrere Velocemente tutto Ciò che ci ha fatto Perché c'hai Invaso di cose Creative Bellissime Grazie Pacchettone di gemma E qui c'è di tutto Forse non solo Quello di gemma Allora Qui c'è Ah c'è Un Pokémon Una mascherina Di Pinkie Pie Quanto è lunga La tua letterina Mi avevo scritto La letterina Adesso è venuta A Romics Avevo Black Tie Vi mando Vedi che brava Ha scritto pure Quello che aveva Vi mando La mia seconda letterina Perché volevo ringraziarvi Per questo bellissimo canale Che avete aperto per noi E ci fate ridere Tutte le brutte cose Per me Se ne vanno Subito via Perché quando vedo I vostri video Non so Come ma se ne vanno Ecco ragazzi E' quello che dicevo prima E' bello E' bello darvi Bo Ogni tanto è bello Staccare i pensieri Staccare la testa Dalle cose brutte E pensare a qualcosa di carino Se riuscite a farlo con noi A me fa tantissimo piacere Questa è Barbara Questo è Super Lele E questa è Lara Con la codina d'amicorno E il cornettino Che bella pure questa cosa Lara sei una brava figlia Lara E tu Barbara Sei una brava mamma Saggio intelligente Tutte e due Eh ma non è che sono Sono come tutte le mamme Quindi io dico I sì Dico I no Quello che Quello che fanno le vostre mamme E faccio pure io Quindi ogni tanto Mi arrappio pure strillo Allora E Gemma dice Che a 10 anni Ha fatto il compleanno Il 19 di maggio Oh questa Lele Farà molto piacere Lele tu per me Sei fantastico E simpatico Sarà felicissimo Ragazzi Grazie a tutti quanti Questo che avete visto Finora Sono solo I regali Del sabato Con qualcosina Di venerdì e giovedì Perché venerdì e giovedì Sono venuti I meno bambini Però questa è solo una parte Domenica Voi non avete idea Quindi probabilmente Questo video durerà Già 6 ore Credo Ma ne verranno altri Con altre ore E ore e ore Delle vostre meraviglie Però sono troppo contenta Di aprirli Io lo so che ci metto tanto Però Io mi rendo conto Che se fossi al vostro posto Non vedrei Cioè se io mandassi Al mio idolo Che è Tiziano Ferro Una lettera E lui la leggesse Io sarei troppo contenta Quindi io cerco di accontentarvi Tutti più che posso Ragazzi Grazie per l'emozione Che ci avete fatto vivere Per l'affetto Che ci avete dato Mi sono emozionata In questo video Si è sentito E grazie a tutti quanti Qui al centro C'è il fiorellino Iscrivetevi al canale Se volete Qui intorno Ci sono altri video Da vedere dopo Se volete Un bacio A tutti quanti Ciao tesori Grazie a tutti